Cambiamo adesso argomento e lo facciamo parlando di Confindustria. Al Via, infatti, Start Imprese, il corso organizzato da Confindustria Chieti Pescara che premia le idee innovative. Al Via, Start Imprese, edizione 2020-21. Il percorso formativo gratuito organizzato da Confindustria Chieti Pescara che prenderà il via il 18 settembre prossimo. Start Imprese si conferma un successo per chi intende diventare imprenditore. Un aiuto concreto e fattivo promosso dalla sezione Servizi Innovativi. Tante le idee imprenditoriali premiate in dieci anni di attività diventate un successo sul mercato locale e nazionale. Un team multidisciplinare di esperti sarà in grado di sostenere un percorso a distanza nella moderna modalità e learning. Le lezioni saranno erogate fino a dicembre. Main sponsor dell'iniziativa, Proger Spa, una delle società migliori di ingegneria italiane. A differenza dei progetti che riguardano le start-up, per esempio in cui bisogna già presentare un progetto attivo, qualche cosa che sia già in funzione, qui il nostro obiettivo è un po' diverso. Noi premiamo esclusivamente chi ha un'idea, giovane, vecchio, semi-imprenditore, non imprenditore, perché proprio il corso di start-up è quello che vuole insegnare o aiutare, quantomeno, le persone a diventare imprenditori. Al termine del corso ci sarà una valutazione finale al primo classificato, andrà un premio in denaro. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro l'11 settembre. Per tutte le info è consultabile il bando sul sito di Confindustria Chieti Pescara. Questo è un sistema assolutamente concreto di presentare l'innovazione, perché sappiamo che molte persone sono quasi titubanti nel presentare le loro idee, hanno quasi paura di essere magari derisi, perché è un'idea un po' strampalata. Invece noi le accogliamo quasi tutte le idee, a parte quelle proprio un po' banali, ma direvo dire che ne abbiamo ricevute poche di idee banali, le accettiamo tutte e facciamo questo percorso proprio volutamente per far diventare imprenditori chi imprenditore non è.